E cosa ti aspettavi? Non pensi che questa scuola abbia già fatto parlare abbastanza di sé? Oggi si conclude il nostro percorso formativo Mi dici che ci beccano? Fra ci becca, sono due foto, sono due cazzo di foto Questa volta ci giochiamo alla carta del detenuto cattivo Qualche conseguenza c'è stata E questo soggetto? Lui è mio figlio Questo nostro ultimo incontro Oggi la so benissimo Abbiamo tutti un amico sotto terra per colpare l'alco, la droga, il gioco d'azzardo Mi piace vero? Quella sensazione di onnipotenza Che dà questa cosa qui Io penso che abbia un dolore Delevati restano i rischi Calo netto invece per il numero dei fumatori Anche se includendo la sigaretta elettronica Una cosa più generale La droga invece continua a crescere nella fascia 15-20 E l'uso scorretto dei social network Sta diventando una piaga per diversi contini Per loro io sarei dovuto venire qui A leggere qualcosa Scritto da qualcuno Che pensa che in centinaia di libri Ci sia la spiegazione Che cosa voglia dire Avere dentro un porco demonio Per loro io sarei dovuto venire